Non capisco perché non abbiate il fegato di condannare questi eccidi come io ovviamente ho condannato immediatamente l'attentato terroristico di Hamas. Per quale motivo non avete speso in 17 anni una parola contro un'occupazione militare, contro un carcere a cielo aperto che è un lager, che sobbisce una popolazione che è la più dimenticata del pianeta. Gli ultimi tra gli ultimi, dannati per la terra per dire la Fanon, persone dimenticate alle quali ovviamente anche il disinteresse delle istituzioni europee. Un tempo i ministri in Italia erano Aldo Mor durante la guerra del Yom Kippur, Giulio Andreotti durante la prima intifada. Berlinguer era amico e telefonava ad Arafat durante la strage di Sabre Shatila e Arafat in un momento in cui l'OLP era un'organizzazione terroristica considerata tale, veniva a visitare a Bottega Oscura il cadavere di Berlinguer. Questa era l'Italia e oggi c'è un appiattimento intollerabile nei confronti di oggi una democrazia per certi versi, sì perché è più libera la stampa israeliana che qui, ma che si permette di fare i cidi di disgraziati nel silenzio e nell'impunità generale. Vi dovreste vergognare.